amici di vg bentornati se siete qui è perché volete sapere il più possibile a proposito di questo fantastico emulatore e io cercherò di accontentarvi una delle domande più frequenti è stata come faccio a far riconoscere al mame i nuovi giochi è semplicissimo una volta scaricati i nuovi giochi e inseriti nella vostra cartella roms basterà cliccare su tools audit all games e partirà la scansione in automatico non prendete assolutamente in considerazione i numeri che vedete sto usando un romset totalmente personalizzato per sapere quali giochi abbiamo realmente a disposizione basta cliccare sulla dicitura available ovvero disponibili qui in alto a sinistra e per capire se un gioco è funzionante basta controllare in basso a sinistra lo status non spaventatevi se una delle diciture è working with problems è soltanto un avvertimento da parte degli sviluppatori vuol dire che il gioco è funzionante ma ha qualche problema magari qualche glitch qua e là niente di preoccupante not working invece significa non funzionante quindi evitate di farlo partire devo fare una rettifica sui chd non è obbligatorio cliccare sulla dicitura chd per farli partire se sono disponibili dall'elenco completo potrete eseguirli anche da lì ok ragazzi credo che sia tutto per il momento vi saluto e vi ringrazio per le visual e i commenti continuate così mi raccomando ciao 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 ciao